allora up significa cerchio significa insieme significa gruppo significa far parte di qualcosa di qualcosa di meraviglioso per me up è una famiglia è un luogo non solo dove l'impegno e la determinazione vengono valorizzati ma è anche un luogo del cuore dove posso crescere e assieme a dei colleghi che sono diventati un po come i miei fratelli e le mie sorelle insieme si lavora per far crescere al meglio i nostri ragazzi grazie